Siamo a Roma per il 27esimo congresso nazionale della SISA, la società italiana per lo studio dell'aterosclerosi. Facciamo il punto sulle metodiche non invasive per lo studio di questa malattia con il professor Arcangelo Iannuzzi, direttore dell'unità operativa complessa di medicina interna dell'ospedale Cardarelli di Napoli. Professor Iannuzzi, quali sono le principali metodiche non invasive per lo studio dell'aterosclerosi? Fondamentalmente ci possiamo basare sull'uso dell'ecocolordoppler della carotide, sulla misurazione della pressione distali, quindi dell'indice caviglia braccio a livello degli arti inferiori, sulla misurazione del calcio coronarico a livello cardiaco con metodiche però in questo caso che utilizzano la presenza di raggi X. Parliamo dell'ecocolordoppler, ci puoi spiegare come funziona questa tecnica? Si, si tratta in pratica con una metodica ecografica di andare a valutare lo spessore medio-intimale dell'arteria carotide, quindi di una delle principali arterie che porta il sangue al cervello e misurare in maniera accurata, precisa e riproducibile lo spessore della parete carotidea. Poi giovandosi anche della presenza del doppler è possibile quantificare la presenza di una stenosi, quindi di un restringimento emodinamicamente significativo del vaso. Quindi in due parole noi possiamo misurare lo spessore della parete, valutare se ci sono placche aterosclerotiche a livello della carotide, vedere se ci sono stenosi importanti che ostacolano il passaggio del sangue. Tutte queste cose correlano con il rischio di poter avere un infarto o un ictus. Quali sono i principali vantaggi di questa tecnica? I principali vantaggi di questa tecnica sono la non-invasività, la facilità, la riproducibilità e le informazioni suppletive che ci può dare rispetto a una semplice valutazione del rischio coronarico che possiamo avere con uno score di Framingham o utilizzando comunque degli altri score per la predizione del rischio cardiovascolare. Ecco, nella valutazione del rischio cardiovascolare cosa aggiunge questa tecnica rispetto alle sole indagini cliniche? Ecco, si è visto che soprattutto nei pazienti a rischio intermedio, cioè quelli non ad alto o altissimo rischio e quelli che non hanno un rischio molto basso, questa metodica ci consente di selezionare meglio questi pazienti e di riclassificarli in una soglia del rischio più adeguata sempre per la predizione del rischio cardiovascolare. All'inizio ci ha parlato della misurazione delle pressioni distali, in che cosa consiste questa tecnica? La misurazione delle pressioni distali consiste nel misurare a livello della caviglia e quindi sull'arteria tibiale posteriore e tibiale anteriore la pressione. Possiamo utilizzare sia un semplice apparecchietto portatile doppler del valore economico di 1000 euro, come un ecocolordoppler ovviamente molto più costoso, e andiamo a misurare la pressione a livello della caviglia. Poi misuriamo la pressione a livello del braccio. Il rapporto tra queste due pressioni, se è inferiore al 90% o superiore al 140%, ci dà indicazione che esista un'arteriopatia cronico-ostruttiva delle gambe. La presenza di un'arteriopatia cronico-ostruttiva delle gambe correla anch'essa a una maggiore facilità ad ammalare sia di infarto sia di altre malattie cardiovascolari che possono portare a morte il soggetto. Quali sono i vantaggi di questa tecnica? I vantaggi di questa tecnica sono innanzitutto l'estrema facilità per cui può essere alla portata con un brevissimo tirocinio di un medico anche non specialista in angiologia la ripetibilità e il costo estremamente basso.